ciao amici oggi facciamo una ricetta facilissima alla portata di tutti si tratta dei dolcetti a cocco un dolce con solo tre ingredienti 200 grammi di coco rapè 200 grammi di zucchero e 4 albumi siete pronti? andiamo via subito alla ricetta ecco i miei dolcetti a cocco sono pronti vedete che belli sono proprio come quelle del supermercato ma fatti in casa buoni e genuini se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per le notifiche di tutte le altre ricette ci vediamo alla prossima con nuove entusiasmante ricette ciao a tutti 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 ciao a tutti